l'8175 collezione di san marino in tre album bolafi vado veloce purtroppo sono stati messi così un inizio di collezione fondamentalmente gli album sono in ottime condizioni e sono tre album in unica custodia della bolafi come usavano a fare una volta il colore che vedete nelle toschine è dovuto alle plastiche che si usavano una volta che tendevano a tirare il colore dei francobolli questo l'abbiamo visto io vado da dietro al contrario così viene più facile farlo vedere qua siamo nel 68 qua siamo nel 62 qua e infine andiamo al terzo e ultimo volume andiamo tra l'elicottero e l'alto 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 già giak e l'alto lo e l'alto lucky woo c'è pure questo ma solo questi fanno già di per sé il costo del lotto se volete altri video o informazioni scrivete affilateli a chiocciolaquattrobaiocchi.com